double tap magari ti conviene prenderlo si 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 sto aspettando un momento in cui sono sicuro che non mi uccidono mentre bevo però perché se mi ammazzano mentre bevo un po brutto cazzo un attimo eh si calmi e tranquilli ragazzi se non parliamo diciamo no 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 più che altro se gli scorsi senza senso in questi momenti sale ammazza il più velocemente possibile eh lo sto facendo occhi che stanno arrivando anche i cani alla gai stanchi pistoletta alle granate non prendere ancora il carpentiere si può che non ammazzare tutto mi sa che stanno per finire mi sa di sì in realtà è stato abbastanza veloce uno che non ho un attimo in giro che il carpentiere allora ora lo prenderei un attimo in giro a riprendere perché cazzo tu hai 17.000? si infatti ricompro le munizioni poi c'è anche il fatto che ammazzo due volte tu il panzer sono 3.000 che hai fatto? ah 3.000 sono non lo so perché sono cioè 1.500 no? ah ok 3.000 in totale io quasi cosa andrei a potenziare la mustang la mustang? ah quindi è nelle regole? si si l'abbiamo detto anche all'inizio dai si può si può usufruire di questo potenziare ah potremmo anche ripotenziare il krm eh oddio appunti io non sto messo benissimo non so se lo faccio no no te no magari io si però ah tu consigliano dove sei e c'è il caso che lo faccio cioè si 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 un alto forno magari se me lo fa potenziare è giù nel si si no no ma già sto potenziando ah bello traformato oddio a me non è male utile 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 lo lasciamo però lo lasciamo non lo cambio perché poi magari mi esce fuoco d'artificio tanto a me continua a dare liquidi di vino ma è il secondo che becco ah eh beh allora non te ne darà più eh no alcuni me l'hanno pure chiesto perché non mi da più di due liquidi ragazzi non è che sfiga durante una partita massimo due ne potete avere sal l'ho fatto una partita ho fatto 80 round eh ho preso due liquidi eh il massimo è due il massimo è due purtroppo e purtroppo vogliono che comprate con i money della carta di credito del papà esatto vogliono che sciocchiate almeno ma voi non fate perché è una stronzata esatto allora in bella vista anche a me a lei vado a prendere il quick revive e dopo sono pronto operativo sta morte mi ha fatto perdere un macello di punti eh sì è vero purtroppo i punti servono perché è successo tutto in un nanosecondo le munizioni eh no ma quella lì è una zona molto brutta anche se c'hai pochi zombie rispetto a me eh ma perché c'è ma arrivano da tre punti contemporaneamente eh sì c'è anche la finestra lì poi eh se puoi ammazzare tu è meglio che non ho molti molti gol ok eh le munizioni non le posso compare neanche volendo eh infatti eh ricordiamo i punti servono perché le munizioni si comprano cioè si comprano sì vabbè a parte che si comprano qua costano 4500 crediti quindi capite bene che sono tanti punti ah sì non l'avrei mai detto eh neanch'io sai vale abbiamo perso sale bene molto bravo se prenderò io il possesso del canale posso su no già non ti basta il tuo anche quello di sale tutto tutto lui allora un colpo di mustang bentornati su coscino tv coscino tv oggi impareremo a farcire un coscio cosciotto di pollo ah sì quando vuoi puoi sparare verso di me con le malta che mi fai solo un piacere sì sì ma c'è anche il trasformato che era tutti comunque minimo obiettivo da raggiungere round 20 round 20 sì non l'abbiamo detto però siamo abbastanza vicini ma non tanto da poterne essere sicuri quindi non mandiamo ce l'ha esatto anche perché minchia le munizioni mi stanno scarseggiando in una maniera esagerata cazzo ma a che ce l'hai precisi vedevo un alone verde che c'è il mio trasformato trasformato e se sono finiti già ma vai vediamo se avviciniamo al trasformato che lo secca lui risparmiamo munizioni se lo mani già ma è morto il trasformato affanculo sparo con la pistolina a coltello e oscuro ce l'hai si ce l'ha sì mi sa che vince lui se la coltello ok in due abbiamo speranza ok uniamo le forze uniamo i coltelli bene io sono dodici colpi sal se non esce un max e mondi sono un po fottuto ma non eri a 4.500 ma 4.500 le puoi comprare e si salva a 4.500 sono tanti punti se metti caso poi schiattolo nei punti per niente magari provo a temporeggiare un attimino sperando che magari dalle tue uccisioni esco un max e mo ok ho fatto un trasformato bene ok utile sono una tattica da fare con un trasformato giri le uccisioni che fa il trasformato possono dare bonus che tu so no non lo so se tu l'effetto non lo so credo che cosa l'ha stabilito non lo so c'è no questo lo so la tua bravura eh sì attenzione eh questi complimenti così così mi fa impallidire mi un attimo mi ammazzi sti simpaticoni grazie prego e continuo a vedere alone verde spero che sia un bonus ma in realtà è sempre il tuo trasformato eh sì le speranze sono sempre l'ultima a morire però eh no mi sa che muovo prima io delle speranze di sto passo cazzo 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 sal sal mi dai una manina al volo eh ok ho sparato il mondo ho sparato grazie ho notato è stato apprezzato ho sparato due caricature di tutte no perché c'è quel cazzo di 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 cosa la c'è quella quella scalinata lì che cazzo ti chiude si si c'è c'è la salita ma non c'è la discesa c'è il trasformato vediamo se fa il lavoro sporco al posto nostro quanto pare no oh mio dio oh mio dio eh sono sono dietro di te stavo un attimo con me ne vado ok 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 è l'ultimo si vai ronventi signore ronventi ah ok e obiettivo diciamo completato si io compro munizioni io me la prendo col trasformato verdi vorrei avere gli occhi verdi non limonare col trasformato e gli esplosati e dai perché forse è morto da solo credo si si è morto da solo non l'ho ucciso io tu non gli fai danno credo no no non gli fai danno muore anche a tempo si no lo so lo so gli fanno sia danno gli zombie sia in volta qui quando faccio i salti qualcosa quando puoi tira la mitragliata qui grazie se vanno a tratti non è perché sto laggando ma perché no no eh cazzo però la situazione eh sì ogni tanto ci interessa sì no non è che colpa te lo so che stretto ma si è accasciato a terra il tuo trasformato visto un bonus blu mi sa che è un così in una macchina mortale è purtroppo è una macchina mortale è fusibile vabbè ho da un lato buono magari finirà un si da un marzello sempre se ci arriviamo è infatti ricordare che abbiamo entrambi in bella vista il caso proprio già anche tu ok 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 c'è uno utilizzo sì sì uno non ci sono ma hanno tolto lo scudo anche a te vedo eh sì direi però non so da quanto ne ho tolto ora a me sì no no a io non ci ho fatto caso a te mi sa già da un po' bene ok forse sta finendo forse c'è un mal loppo qua però mozzetto il mondo uccidio il mondo siis aspetta uccido eh perché è l'ultimo ok c'è qua bomba e macchina aspetta 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 Ah, non ti direi di sfruttarla per ammazzare Gli zombie del round Aspetto che lampeggio Spendi tutto tu, eh Ah, è anche... Sì, sì, sì Attento Sai che però avremmo dovuto Prendere lo scudo È vero La fuga di aver visto Bomba Vabbè, dai, con la macchina mortale Penso di fare abbastanza una carneficina Eh, però è limitata la carneficina Eh, lo so Cioè, nel senso, è uscita sia la bomba sia la macchina mortale Sì, sì, non ci abbiamo pensato Non dovrebbe durare troppo Abbiamo anche un max emmo Quindi dai, forse non è stata una scelta sbagliata Sì Sì, ti sta spawnando un cane addosso Sì, ma il mio trasformato No, è mio in realtà Lavoro sporco No, in realtà il trasformato, se non sbaglio, non ammazza il cane Ah, non ammazza il cane Non lo caga Ok Boom Non è competenza sua ammazzare il cane Eh, no, no, non si abbassa Queste cose Allora Spawnano Ok, no C'era una parte di me che sperava fosse già Mi sa che il trasformato è anche meglio di alto forno in questo caso In questa zona Allora, in questa situazione, considerando che Via, via, via Considerando che comunque dobbiamo ammazzare nel modo più veloce possibile Non è che facciamo chissà quali gruppi di zombie ammalloppati Sì, meglio il trasformato O, eh, quello là Cazzo si chiama cavo inerte Instant, anche quando vuoi prende Cavo inerte E ma sta finendo il round Andiamo a prendere lo scudo, va Ci è l'ultimo Oltre il forno dell'ombra Ma maledetto Vabbè, dai, non fa niente Non fa niente Non fa niente, c'è instant E comunque Il fatto che Mi avevi detto che forse hanno baciato alto forno Me l'hanno confermato in tantissimi Cioè Mi hanno scritto in tantissimi nei commenti Sì, sì È stato baciato Ora C'è stato nerfato Quindi c'erano depotenziato Sì, sì, sì Eh, no In realtà hanno potenziato cavo inerte Mi hanno detto Ora io tante Tante di queste cose Non lo so Perché come dicevamo prima Appunto Cioè, noi giochiamo meno di quanto immaginate Quindi Sì, sì Non possiamo provare Cioè, proviamo comunque tipo così Ora in queste partite Sì, esatto Eh, non facciamo tante prove Che poco Madonna, sti cani Eh, due Cazzarola Sì, sì Tira granelle Ah, beh, che tu c'è le mastang A fare una carneficina Sì, infatti Però mi carneficina È finito instant Sì, sì Occiò, occiò 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 Munizioni come stai messo De che già Ah, discretamente Bene Ok, ok, ok Ma ricordiamoci In bella vista Che abbiamo Yep Ale Oh, pieno carico Mi riuscito addosso Però Non guasta comunque No, 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 no Fa sempre bene Sto morendo Eh, porca troia Instant Eh, sì Instant Cioè, in bella vista Volendo ti ricordo Se la situazione è brutta Ah, è già usata? Sì, no Perché non voglio rischiare Ok, va bene Io tiro un po' di granelle lì Per qualche moco Rallenta la situazione Che brutta cosa Aiuto 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 Digia Di aver visto Sì E tutta quella A bandidio E tutta quella A bandidio Esatto Sì E anche le munizioni E quindi Esatto Poi la seconda volta Invece il trasformato Ci ha dato un attimo La zappa sui piedi E la terza volta Non c'è stata Molto bene Comunque La terza volta Siamo morti Ho detto Basta Comunque dai Oh, 22 round Per essere in quella zona Sinceramente Solamente Non è male E vabbè Anche la pistolina potenziata Se è riuscito a potenziarle Non è proprio Una brutta challenge Secondo me E boh Io ragazzi Invito a farla anche voi Provate questa challenge Fateci sapere Insomma Qui sotto nei commenti Quanto fate Insomma Non scrivete Da casa Ho fatto un miliardo di round Perché non ci prendiamo Magari farla in tre con John Ma non siamo riusciti a organizzarsi Esatto Questi giorni Non può Quindi Sì No Lui Comunque sia il fuso orario Sia anche il lavoro Forse sai che in tre Sarebbe stato un gocciolino più semplice Perché si è Ci gestisce Più parati Magari due stanno lì Uno gira Sì esatto Infatti queste challenge Magari conviene farle In più persone Perché si riesce comunque A gestire meglio i zombie Comunque vabbè Prossima challenge Ve lo garantisco Insomma Proprio non al 100% Ma ci sarà John Ecco perché Veniamo Forse anche altri ragazzuoli Veniamo E quindi vabbè Comunque Un saluto Cosci Veniamo al prossimo Ragazzi Esatto Consigliateci altri challenge Nei commenti Visto che Ultimamente Challenge a manetta Poi magari metterò anche le schede Con dei sondaggi Come ho fatto anche in precedenza Dove vi chiedo alcune domande Magari su alcune cose Potete rispondere ovviamente Cliccando il tasto in alto a destra Dove poi trovate anche correlati Altri video che faccio su zombie Insomma eccetera eccetera E quindi noi ragazzi Vi invidiamo sempre A scrivere Esatto Ci vediamo A prossimo video Ciao 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 Bella 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 Bella